Le giornate FAI d'autunno tornano in Sardegna sabato e domenica, offrendo l'occasione di visitare sei siti spesso poco conosciuti e inaccessibili. Un appuntamento che unisce arte, storia e natura grazie al lavoro dei volontari del FAI e dei giovani apprendisti ciceroni. Tra i luoghi protagonisti di questa edizione, le saline Conti Vecchi di Assemini offrono uno spaccato di archeologia industriale ancora attiva, dove la produzione del sale si intreccia con la conservazione dell'ambiente. A Cagliari, oltre al suggestivo quartiere San Bartolomeo, si potrà esplorare il deposito expolnato di Sant'Elia. A Oliena, il percorso Le Radici del Colore celebra l'arte di Liliana Cano nel centenario della sua nascita, con un omaggio ai suoi legami profondi con la terra sarda. Il Museo Magdiuselus vuole trasmettere invece il rispetto per la natura e la sua diversità, con una delle più grandi collezioni zoologiche dell'isola, mentre a Palau le antiche batterie talmone riportano in vita la memoria della storia militare del nostro paese. A Sassari si apriranno le porte di Palazzo Segni e della storica scuola a San Giuseppe. Infine a Tempio Pausani e il centro storico, con la sua piazza e il palazzo comunale le dimore storiche, si svela i visitatori con il fascino del granito della Gallura.